Flyers, sono con Romano Raveioli, chip leader del D1C del main event Allora, caldo, una dichiarazione Romano? Sei contento sicuramente? Se va così va bene, dai Dai, ci piace? Mi hai detto che c'è stata una mano che ti ha fatto veramente subito decollare al volo, se ce la puoi raccontare Sì, è una mano con i cap, apro con i cap G, 5000 su B2000 Mi tribetta Grande Buio 17, chiamo solo, flop 2,7 jack, ci betta 12, faccio 30, mi fa resti, chiamo e mi gira le dame e tengo i cap Ed è andata così, bene, allora GL per domani e buona serata, buon riposo, buona concentrazione Grazie Ciao a tutti Grazie mille